Quando c'è la violazione dei diritti e la non applicazione delle regole, dobbiamo combattere. Lui è andato a Roma, contestando con i sindaci per i cittadini della Campania. Noi siamo qui, oggi, per contestare lui. Così, sotto Palazzo Santa Lucia, l'ex presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha guidato un presidio di protesta contro il governatore De Luca, rivocando poi le parole dello stesso presidente della regione per motivare la decisione di chiamare una conferenza stampa pubblica. Lo scotto, denuncia Fiola, è il trattamento riservato alla Camera di Commercio per Tenopea, secondo lui mortificata dall'istituzione regionale. La Camera di Commercio di Caserta in 26 giorni hanno fatto il rinnovo. Noi siamo al sessantesimo giorno e chiedono ancora notizie non dovute. Noi abbiamo distribuito il decreto legislativo 156, l'articolo 9 e 10, dove dicono le competenze della regione. debbano fare i notai, debbano prendere i nomi che danno la Camera di Commercio, fare il decreto, poi chi si sente che sia stato tagliato, mortificato, danneggiato, va al tar alla giustizia amministrativa e va a reclamare i propri diritti. Ma questo non lo può fare la regione. In contrasto netto con le parole di Fiola e la sua decisione di convocare una conferenza pubblica, il presidente di Confindustria Campania, Costanzo Giannotti Pecci, e il presidente dell'Agen, Angelo Lancellotti. La nostra città è una città dove l'inventiva, la fantasia sono padrone anche alla Camera di Commercio. Noi siamo all'assurdo che le sigle della vera rappresentanza, secondo la struttura amministrativa della Camera di Commercio, non esistono. Metteremo in campo tutte le iniziative che le norme ci consentono e che la legge ci consente. La Camera di Commercio ha adottato delle procedure diverse da quelle che si adottano normalmente nel resto d'Italia. Proprio a causa di ciò noi siamo stati costretti a fare ricorso al TAR, al Consiglio di Stato e abbiamo sempre avuto il conforto delle sentenze di questi enti. Quindi noi chiediamo che quello che vale negli altri territori e nel resto d'Italia possa valere anche qui. Cioè noi iscriviamo le nostre aziende, così come lo fa l'Unione Industriale, Confcommercio, la CLAI e tutte le altre, allo stesso modo in cui avviene nel resto d'Italia. Appunto, queste sono le norme. Da qua non si deve derogare.